Siamo al campus universitario, nell'aula di 4, con il dottor Albano dell'Ufficio del Garante Nazionale. È stato fatto un molto interessante seminario sul rapporto che il Garante Nazionale è con i Garanti Territoriali. Quindi avete spiegato molto bene questo aspetto, quindi il Garante Nazionale ha rapporti con i Garanti Territoriali, quindi è una rete, è una rete tra l'altro sovranazionale, quindi in realtà il Garante Nazionale è tra la rete dei Garanti Nazionali del Consiglio Europeo e tra i Garanti Territoriali. Tuttavia in Italia alcune regioni e molti comuni non hanno un Garante Territoriale nominato. Sì, non hanno un Garante Territoriale nominato e in questi casi, quindi nelle regioni in cui non c'è un Garante regionale o non ci sono i Garanti Territoriali, il Garante Nazionale cerca di entrare in dialogo con le autorità del territorio, quindi gli antilocali, la regione, eccetera, per contribuire a fare in modo che invece vengano nominati queste figure di garanzia. Dall'altra parte, nelle regioni in cui non ci sono questi organismi nominati, il Garante Nazionale tende a più frequentemente esercitare il proprio mandato, proprio perché mancano questi plessi. Non a caso la prima visita al carcere del Garante Nazionale nel 2016 fu in una regione che non aveva il Garante regionale e così è stato poi anche successivamente. Quali sono gli ambiti di privazione di libertà in cui, classificati diciamo, in cui il Garante Nazionale interviene a tutela dei diritti umani? Allora, non solamente l'ambito che noi chiamiamo penale, che è quello classico del carcere, quindi l'ambito penale, il carcere per adulti e per minori, ma sono quattro gli ambiti principali, quindi l'ambito che noi chiamiamo penale, l'ambito delle polizie, quindi le camere di sicurezza, il momento dell'arresto e del fermo, i luoghi quindi delle, quella che gli inglesi chiamano la custodia di polizia, e poi l'ambito migranti, che quindi comprende il trattenimento nei centri per il rimpatrio, quindi un po' la, diciamo così, il trattenimento per motivi amministrativi di irregolare ingresso e soggiorno, e quindi anche poi tutto il filone del controllo dei diritti umani sui rimpatri forzati, e il quarto ambito è quello della salute, cioè il controllo sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, in particolare penso ai servizi psichiatrici di angio e cura dove vengono fatti i TSO, e penso alle residenze sanitarie per anziani e per disabili, dove a certe condizioni la situazione di alcune persone diventa una condizione in cui è necessario l'intervento del garante nazionale che ha il mandato sui luoghi di privazione della libertà, anche di fatto. Poi ultimamente con la pandemia si è aggiunto un quinto ambito che è quello dei luoghi di quarantena, luoghi sostanzialmente da cui non te ne puoi andare liberamente, quindi ne abbiamo esteso il mandato anche alle navi quarantena, agli alberghi Covid. Grazie, grazie a lei, grazie davvero.